Ben ritrovati a tutti voi cari amici di Angoli, grazie per essere qui a questo nuovo appuntamento della sera, anche ad Angoli continueremo ad occuparci di coronavirus, lo facciamo con un ospite che è già qui con noi, voi lo presento subito, io saluto e ringrazio il dottor Antonio Clavenna per essere qui con noi, epidemiologo presso l'Istituto Mario Negri, buonasera e grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Nel frattempo vi ricordo che avete già da subito le nostre linee telefoniche a vostra disposizione, basta comporre lo 0313300655 per entrare direttamente qui nello studio di Angoli oppure inviare anche un messaggio WhatsApp attraverso il numero 3357084396, quindi aspettiamo anche i vostri interventi. Dottore, allora, prima di tutto inquadriamo velocemente perché le domande sono davvero tantissime e ci aspettiamo anche degli interventi dall'esterno. Che cos'è il coronavirus? Il coronavirus è una famiglia di virus, il termine del coronavirus. Quello di cui c'è oggi un focolare di epidemia in Italia è un nuovo coronavirus che è originato dalla Cina a dicembre dello scorso anno, di cui non conosciamo bene le caratteristiche, diciamo che è un cugino di alcuni virus che in passato hanno dato delle epidemie con un numero abbastanza elevato di morti come per esempio la SARS o la sindrome respiratoria medio orientale. Quali sono i sintomi facilmente riconoscibili? I sintomi sono molto simili a quelli dell'influenza, cioè possono essere febbre, tosse, difficoltà a respirare, meno frequentemente che con altri virus si può avere raffreddore, mal di gola, a volte si può avere sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea, ma sono molto meno frequenti rispetto ad altri virus. Di fatto davvero molto simili alla sindrome influenzale che conosciamo, per la quale molti di noi sono anche vaccinati. Per esempio, qual è il livello di febbre in questo caso che deve metterci in allarme? In questo caso è difficile dirlo perché molti dei casi, anche in Cina, in realtà non avevano una febbre particolarmente elevata. Diciamo che nella maggior parte dei pazienti di cui abbiamo i dati, di cui sappiamo com'è andata la malattia, possiamo dire che avevano solo una febbre a volte neanche molto elevata e la tosse, per cui non è possibile fissare una soglia per dire solo se sotto i 38, 38,5 c'è da preoccuparsi. Parlando di tosse, invece, sto cercando di approfittare ovviamente della sua competenza, è una tosse particolare, diversa magari dalla solita che accompagna l'influenza? Sì, in genere, però anche in questa simile influenza è una tosse secca, cioè una tosse spesso senza muco, senza catavo. Bene, quindi in una situazione di fatto ancora poco chiara, in realtà tutte le misure che sono state messe in campo aiutano concretamente a proteggere la popolazione dalla diffusione e anche dalla contrazione ovviamente delle virus? Sì, queste misure che possono apparire anche abbastanza estreme in questo momento, servono proprio a cercare di limitare il più possibile la diffusione del virus nel momento in cui c'è un focolaio in atto. Diciamo che per prudenza la regione ha preferito estendere al di là di quella che viene chiamata la zona rossa, altre misure per evitare appunto degli assembramenti o il ritrovo di persone. Quindi aver determinato, come lei ha ben ricordato, una zona rossa di fatto è una modalità di sicurezza ovviamente per coloro che vi si trovano, ma anche e soprattutto per coloro invece che si trovano all'esterno di questi confini? Esattamente, perché serve innanzitutto appunto, visto che sono i comuni maggiormente interessati dal focolaio, proprio per evitare anche per chi abita lì di avere il rischio di entrare in contatto con il virus, ma soprattutto per cercare di evitare che si estenda al di fuori dei confini di questa zona e che raggiunga anche altre parti della regione o d'Italia. Dottore, esistono anche delle persone che hanno contratto il virus ma sono asintomatiche? Anche qui non sappiamo dei dati osservati in Cina che esistono, non sappiamo quante sono. I dati ufficiali cinesi parlano di circa un per cento dei positivi al test che non presentavano sintomi. È però possibile che in realtà sia una sottostima, cioè che molte persone o senza sintomi o con sintomi estremamente lievi non siano state contate proprio perché non sono giunte all'attenzione di un medico. Qui da noi esiste questa casistica, quindi la possibilità che vi siano anche degli individui asintomatici ma che in realtà possono in qualche maniera essere entrati in contatto con il virus? Sì, sì, è possibile. Lo sapremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane dai casi che stanno emergendo ora. Per il momento, per esempio, sulla base dei dati resi pubblici dal Ministero della Salute, all'incirca poco meno della metà di quelli ritrovati positivi oggi non hanno ancora sintomi. Non sappiamo se li svilupperanno, come andrà avanti la malattia, però per il momento abbiamo delle persone positive al test ma che non hanno ancora la malattia. L'altra cosa è che dal momento che non sappiamo dove ha avuto origine il focolaio è anche possibile che in passato ci siano stati casi o con sintomi lievi o con sintomi senza sintomi che avevano il virus e che poi sono stati un po' all'origine di questo focolaio. Ma tutto questo, soprattutto l'ultima parte che lei ha evidenziato, deve creare nella popolazione timore, quello che in realtà un po' si sta diffondendo e che invece vorremmo cercare anche grazie alla sua partecipazione qui in studio, insomma di limitare, trasferendo anche delle informazioni concrete che possano tranquillizzare chi ci sta ascoltando. Ma creano più complicazione per noi o meglio per chi come le istituzioni sanitarie deve cercare di tenere sotto controllo la diffusione del virus. In realtà per la popolazione di per sé potrebbe essere un dato quasi tranquillizzante perché vuol dire che la stima che oggi noi facciamo della pericolosità del virus in termini di letalità, cioè di rischio di andare incontro a morte, potrebbe essere superiore di quella che in realtà è proprio perché non stiamo tenendo conto dei casi con sintomi molto lievi o assenti. In realtà i pazienti che sino ad ora in Italia purtroppo sono andati incontro a un epilogo drammatico, sono in realtà persone di una certa età e che in realtà soffrivano già di patologie pregresse. Questo che cosa ci dice? Questo ci dice che al momento quantomeno si sta comportando come si comporta il virus dell'influenza. Per quanto dei dati della Cina ci dicono che è un po' più pericoloso del virus dell'influenza. L'altra cosa da sottolineare è che in questo momento noi parliamo di morti per coronavirus, in realtà dovremmo parlare di morti in cui è stato trovato il coronavirus. Perché è possibile almeno in alcuni di questi casi che la morte sia dovuta alla presenza di altre malattie e che incidentalmente è stato trovato anche il coronavirus. Quindi di fatto esistono categorie più a rischio come in realtà accade per l'influenza per la quale molti di noi si sono ovviamente vaccinati all'inizio dell'inverno? Sì, anche qua per quanto ne sappiamo finora, però qualche dato inizia ad accumularsi. Le categorie a rischio sono molto simili a quelle dell'influenza stagionale. Per cui chi ha più di 65 anni, chi ha altre malattie, chi ha problemi di salute o meglio, chi sta effettuando terapie che riducono il sistema immunitario, per esempio perché ha un tumore o perché ha una malattia autoimmune, ha avuto un tapianto. Queste sono le persone che dobbiamo cercare maggiormente di proteggere perché sono quelle che sono più a rischio se incontrano il virus. Dottore, abbiamo una domanda che arriva via WhatsApp proprio in questo momento. Perché i bambini contraggono meno il coronavirus? Non lo sappiamo. Sappiamo dei dati disponibili che i bambini sono pochi, circa in Cina l'1% dei contagiati, che i bambini hanno dei sintomi particolarmente lievi. Non sappiamo il perché. Ci sono alcune ipotesi. Qualcuno sostiene, in parte potrebbe avere ragione, ma ancora da dimostrare, che i bambini in qualche modo sono abituati ad avere a che fare spesso con virus per loro nuovi e per loro sistema immunitario nuovi. Però è un'ipotesi che ancora deve trovare conferma. Dottore, tra le indicazioni che vengono proposte per ripararsi in qualche maniera dal contagio, sicuramente c'è un lavaggio molto frequente delle mani con soluzioni indicate o anche con il sapone, proteggersi insomma in qualche maniera dal contagio proprio attraverso questo comportamento. È corretto? Dobbiamo farlo spesso? Dobbiamo farlo in ogni situazione che ci mette a contatto con l'esterno? Allora, sì, è corretto. Dobbiamo farlo spesso senza esagerare. Nel senso che dobbiamo farlo in tutte quelle situazioni in cui ci troviamo a contatto con sporcizia, dove potremmo contaminarci, ma soprattutto prima di mangiare, dopo essere stati su un mezzo pubblico, dopo essere stati in bagno ovviamente, in modo tale da ridurre il rischio di poterci contaminare con il virus, ma vale anche per tanti altri virus, non solo questo. Certo, sono comunque buone abitudini comportamentali. Intanto ricordo a chi sta a casa che avete la possibilità di intervenire direttamente proprio qui in diretta, basta comporre lo 031-330-0655. Un'ultima domanda flash che tra l'altro ci arriva. Quindi chiedono, ma ha senso chiudere i bar alle 18, quando al mattino effettivamente ci sono comunque tante occasioni, dalla colazione a piccole pause, di recarsi appunto in questi locali pubblici, avere comunque una condivisione con molto pubblico? Quindi che cosa ne pensa? Sì, qui è una domanda legittima, credo, perché su questo non ho informazione, che sia stata pensata anche per il fatto che spesso i bar, pensando anche a Milano, altra zona della Lombardia, magari sono molto frequentate alla sera o nell'ora dell'aperitivo. Effettivamente questo però anche la colazione potrebbe rappresentare comunque un momento dove potrebbe esserci un assembramento. Ritornando ai consigli comportamentali che possono proteggerci dalla contrazione del virus, abbiamo, e lei ha già risposto appunto, abbiamo il consiglio di lavarci le mani, ma anche l'utilizzo di mascherine, perché pare che il virus possa in qualche maniera intercettarci attraverso la bocca e il naso piuttosto che gli occhi. Cosa ne pensa e cosa suggerisce a chi sta a casa? Allora, le mascherine, se non in contesti molto particolari, che sono principalmente i contesti sanitari, sono poco utili. Sono poco utili per proteggere noi stessi, perché il virus in realtà attraverso le comuni mascherine chirurgiche è in grado di passare. Per cui servono delle mascherine apposta che usano gli operatori sanitari anche perché comportano comunque una fatica a respirare, per cui non sono semplici da portare. Servono per chi è ammalato, per chi ha tosse e raffreddore, per evitare di trasmettere agli altri il virus, perché in qualche volta tengono le goccioline respiratorie. Quindi da utilizzare se si è ammalati, di fatto? Da utilizzare se si è ammalati, esattamente. E se invece si soffre di patologie, come abbiamo indicato prima, e quindi si può essere nella categoria rischio, è consigliato l'utilizzo, per esempio, banalmente, quando si va al supermercato o si esce di casa, oppure anche in questo caso è inutile? È poco utile, può essere consigliabile come ulteriore precauzione per cercare di ridurre il rischio. In realtà meglio le norme comportamentali, soprattutto se si è a rischio, evitare le ore di punta se si deve andare al supermercato, in modo tale da evitare di essere in un luogo, soprattutto luogo chiuso, con molte persone. Un'ultima domanda, credo, prima di andare in pausa, un messaggio WhatsApp che ci chiede come mai in Europa risultiamo essere la nazione notevolmente più colpita e come non siamo riusciti ad arginare l'arrivo di questo virus. Come vuole rispondere? Qui il problema maggiore è che si è verificato un evento che nessuno voleva che si verificasse, è il contagio in ospedale. Purtroppo, sia soprattutto a Codogno, ma non solo, per le difficoltà e la difficoltà di distinguere questo dall'influenza, in realtà non ci si è accorti subito che poteva essere un paziente con coronavirus e questo ovviamente in un ambiente con un pronto soccorso, con un ospedale, comporta il fatto che ci sia subito un numero abbastanza alto di contagiati. Dottor Claven, abbiamo anche una telefonata in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parlo? È Mariangela. Mariangela, benvenuta, prego. Senta, per cortesia, noi maneggiamo parecchi soldi. È pericoloso? Non più di tanto. L'importante è, anche qui, rispetto delle norme igieniche, se non si può lavare le mani dopo aver toccato i soldi, è importante usare i gel disinfettanti che contengono alcol, in modo tale da ridurre la carica virale che c'è sulla mano. Però non si trasmette facilmente attraverso le banconote. Bene, ovviamente una breve pausa, come d'abitudine. Tra pochissimo siamo di nuovo insieme. Ben ritrovati cari amici di Angoli, ancora insieme per la seconda parte del nostro appuntamento. e vi ricordo ancora che avete la possibilità di intervenire in diretta qui nello studio di Angoli. Basta comporre lo 031-3300-655, ma potete anche inviare un messaggio attraverso la linea WhatsApp al 335-70-84396. Vi ripresento l'ospite che questa sera è qui con noi per approfondire ovviamente l'argomento coronavirus. ancora una volta saluto e ringrazio il dottor Antonio Clavenna, epidemiologo del Mario Negri, che ringrazio ancora ovviamente per essere qui. Allora, tornando appunto all'argomento, ovviamente, è importante individuare per, insomma, arginare il più possibile il virus il famoso paziente 0, che sembra non essere ancora stato individuato? Sì, è importante perché in questo modo potremmo capire tutta la catena di contagio e individuare altre persone che possono essere portatrici del virus che ancora adesso magari non abbiamo individuato. Detto questo, quanto dura l'incubazione del virus laddove fossimo entrato in contatto con qualcuno che in qualche modo ne è portatore? Le stime che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e altre istituzioni sanitarie dicono che potrebbe durare da un minuto di un giorno fino a un massimo di 14 giorni. Alcuni dati cinesi dicono che potrebbe durare anche oltre 14 giorni, ma non ne siamo ancora sicuri, per cui al momento quello che sappiamo è che la quarantena per chi è entrato in contatto col virus è di 14 giorni. La maggior parte delle persone però sviluppa i sintomi diciamo tra la quinta e la sesta giornata dall'avvenuto contagio. Abbiamo una telefonata pronto, con chi parlo? Antonio. Antonio, benvenuto, prego. Grazie a lei. Sento dire che bisogna in caso di necessità rivolgersi al medico di base, ma i medici di base hanno un orario come tutti gli altri cristiani. Di conseguenza non sento mai parlare della guardia medica, per esempio. Che fine ha fatto? Sentiamo la risposta. Che cosa suggerisce? Diciamo che si può contattare anche la guardia medica, anche se la guardia medica magari non conosce bene la storia clinica della persona. Un altro numero invece da contattare per qualsiasi informazione è il numero verde attivato da Regione Lombardia. Il numero non me lo ricordo, ma lo potete trovare sul sito di Regione Lombardia, che è stato attivato come call center apposta per chi ha dubbi o per chi ha sintomi e ha bisogno di avere delle informazioni maggiori sul come comportarsi. Bene, quindi le indicazioni, giusto per approfondire questo argomento, nel momento in cui dovessimo avere il dubbio, il sospetto di essere entrati in contatto con il virus, qual è la procedura comportamentale corretta? La procedura è non andare in pronto soccorso, non andare nell'ambulatorio del medico, perché in questo modo si rischia di mettere a rischio altre persone, rimanere in casa, telefonare appunto o al numero verde della Regione Lombardia o se è disponibile al proprio medico curante, oppure nel caso di sintomi particolarmente seri, al numero 112 delle emergenze. Bene, è possibile immaginare che molti cittadini nelle settimane precedenti, abbiamo ancora una telefonata, diamo spazio e precedenza, pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Benvenuto. Rodolfo Salvatore da Piacenza. Prego, benvenuto. Mi sorge una spontanea domanda, come mai saranno tutti i manager, le persone che sono andate in Cina, solo in Italia, in Francia non succede niente, in Germania non succede niente, nel Regno Unito non succede niente, in Spagna non succede niente. Cos'è, una specie di isola stigata d'Italia o c'è qualche altro motivo di disinformazione che non vogliono raccontare, proprio creando in un panico esagerato, tra l'altro. Grazie per l'intervento. In qualche maniera, forse Dottor Clavenna aveva già dato una motivazione poco fa della ragione per la quale l'Italia fosse considerata il paese in Europa più colpito, mentre gli altri meno. Come commenta questo intervento? Il discorso è che noi stiamo attivamente, attraverso i test che vengono fatti, soprattutto nell'area dell'Odigiano, stiamo cercando attivamente le persone che hanno il virus e non hanno i sintomi, e non hanno ancora sviluppato i sintomi. Gli altri paesi, il sistema di sorveglianza prevede che chi ha dei sintomi simili, influenzali, venga a rispondere ad alcuni criteri, per esempio essere tornato, o essere stato in contatto con qualcuno che è tornato da alcune nazioni dell'Asia, venga sottoposto al test. È possibile che anche, come è successo fino a pochi giorni fa in Italia, anche in altre nazioni, ci siano dei casi non ancora riconosciuti. E questo potrebbe essere il motivo per cui in Italia c'è questo squilibrio. Certo. Dottor Clavenna, un'altra domanda. Il vaccino anti-influenzale, fatto ovviamente a fine autunno, inizio dell'inverno, in qualche maniera può essere efficace? Sul coronavirus no. No. Può aiutare solo a distinguere eventualmente tra influenza e questo tipo di infezione. Quindi in qualche maniera comunque è utile. Può aiutare il medico nel far diagnosi. Un'altra telefonata, grazie. Pronto con chi parlo? Pronto. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Sono Grazia da Bergamo. Benvenuta, prego. Vorrei, volevo fare una domanda al dottore. Mio marito è un cardiopatico, ha un pacemaker. È più messo in pericolo di noi che non abbiamo niente? Devo andare con la mascherina in giro o posso usare più tranquilla, ecco. Grazie per essere intervenuta. La risposta qual è? Sì, fa parte delle categorie a rischio, per cui è importante che in qualche modo si protegga e che siano attenti i familiari a cercare appunto di evitare di mettersi in situazioni dove è possibile contare il virus. Per cui in generale, oltre al rispetto delle norme igieniche già ricordato, evitare il più possibile luoghi di assembramento dove ci possono essere molte persone. Dottor Clavenna, argomento supermercato. Intanto i supermercati sono stati davvero presi d'assalto in queste giornate. È giustificato questo atteggiamento innanzitutto? No, non è giustificato perché comunque e anche nelle zone, la cosiddetta zona rossa, comunque viene garantito l'approvvigionamento di cibo e le persone possono uscire per andare a fare la spesa. Ovviamente dove è più alto il pericolo di epidemia l'importante è che non si creano assembramenti che vuol dire che nei supermercati si entra a piccoli gruppi e si cerca magari di stare in fila distanziati di almeno un metro uno dall'altro in modo tale da rendere meno probabile la diffusione del virus. Rimanendo sempre sull'argomento supermercati, un ascoltatore scrive all'interno del supermercato entro in contatto con persone di qualunque genere quindi posso rischiare anche spingendo il carrello quindi impugnando la parte che ci consente di spingere il carrello di contattare qualche virus, anche il coronavirus ovviamente. Sì, anche qui è un po' come chi viaggia sui mezzi pubblici o in alto ambiente, chi si trova in alto ambiente aperto al pubblico. L'importante è evitare toccare mano, occhi e bocca con le mani sporche e appena possibile pulire le mani o col gel o lavandole con acqua e sapone. Quindi proteggere le mani con dei guanti può essere utile? Per chi si trova magari spesso per lavoro in ambienti aperti al pubblico con tante persone può essere utile. Bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto con chi parlo? Sono Angela di Como. Angela, benvenuta, prego. No, volevo chiedere al medico. Io soffro di diabete e sono a rischio. Grazie per essere intervenuta, prego. Sì, anche chi soffre di diabete è considerato una persona che ha un maggior rischio di avere dei sintomi più gravi nel caso di un'infezione al coronavirus. Anche in questo caso la raccomandazione appunto è quella evitiamo per quanto possibile magari luoghi particolarmente affollati con molta gente. È possibile fare una previsione sul tempo di esaurimento o diminuzione del contagio? No, non è possibile. Possiamo sperare nel senso che attualmente la situazione in Cina sembra che stia migliorando. È troppo presto per dirlo. È possibile comunque che anche nelle prossime settimane e per qualche mese ci sarà la circolazione del virus. Tutto dipende da molti fattori, dalle misure messe in campo anche in Italia. Non sappiamo ancora se con l'arrivo di temperature più elevate il virus magari tenderà ad estinguersi. Per cui ci sono diversi fattori per cui è difficile oggi prevedere. Per quel numero di popolazione che in qualche maniera anche nelle settimane precedenti alla manifestazione del virus, alla determinazione delle aree rosse e alle indicazioni decise dal governo e comunque anche da Regione Lombardia che in qualche modo si fossero recate in queste aree rosse o anche banalmente in occasione del carnevale a Venezia per esempio e dovessero manifestare qualche sintomo o non lo dovessero manifestare. Qual è il consiglio? Per chi è andato, si è recato negli ultimi due settimane diciamo orientativamente nell'area considerata zona rossa la cosa più importante è tenere sotto controllo i sintomi per cui misurare magari la febbre ogni tanto almeno idealmente potrebbe essere una volta al giorno e se dovesse comparire febbre o se dovesse comparire tosse appunto chiamare i numeri della Regione Lombardia o il proprio medico curante. Diciamo da tenere presente che il virus non è nell'aria il virus lo trasmettono le persone per cui più che essere stati in un posto è essere stati a stretto contatto con una persona che aveva il virus per cui non è tanto essere stato a codogno in paese ma avere in contatto o aver mangiato con qualcuno essere stati a stretto contatto con qualcuno che aveva il virus Per stretto contatto che cosa intende? In genere è qualcuno con cui si rimane in un luogo chiuso a una distanza inferiore a un metro per un determinato periodo di tempo proprio perché la trasmissione avviene principalmente per via aerea. Un telespettatore all'ascolto chiede Vorrei sapere se andare in ospedale per una visita di controllo di routine o esami del sangue di routine è pericoloso. Oggi direi molto poco nel senso che adesso dopo il caso di Codogno gli ospedali della Lombardia e credo anche tutti gli ospedali italiani si sono attrezzati per garantire percorsi sicuri per i pazienti che non hanno sintomi influenzali separandoli dai pazienti con sintomi influenzali per cui attualmente non dovrebbero esserci particolari problemi se ci fosse o sarà l'ospedale a raccomandare magari di spostare una visita o un esame. Certamente. Un altro ascoltatore dice che sono un paziente di 68 anni sono stato sottoposto ad un intervento di lobectomia polmonare a causa di un tumore quindi quali precauzioni mi consiglia di prendere? Anche in questo caso valgono un po' le precauzioni di cui abbiamo parlato per il diabete o per la cardiopatia per cui rispetto rigoroso delle norme igieniche e per quanto possibile lontano da luoghi affollati dove ci sono persone. Quali sono in questo momento le procedure di cura di chi ha contratto il virus? In questo momento sono le stesse per tutte le persone che hanno una polmonite di origine virale per cui anche una polmonite dovuta al virus dell'influenza per cui sono chiamate terapie di supporto si fornisce ossigeno, si forniscono liquidi per reidratare e in alcuni casi si dà un antibiotico per evitare che sopraggiunga un'infezione di tipo batterico. Non abbiamo farmaci specifici. In Cina sono in corso sperimentazioni vedremo tra qualche settimana se ci sia un farmaco efficace per limitare questa patologia. Dottore ha già detto in un paio di settimane in realtà qual è la prospettiva temporale per poter mettere a punto un vaccino o in qualche maniera una cura che sia specifica per questa situazione? Per il farmaco più rapida nel senso che sapremo già se si prospetta tra tre settimane o un mese se le farmaci sperimentate in Cina sono efficaci. Sul vaccino sarà più lungo. Si pensa che tra qualche mese si potrà iniziare a fare le primissime fasi di sperimentazione dell'uomo ma difficilmente prima di un anno e mezzo sarà possibile avere a disposizione un vaccino. Un altro ascoltatore soffro di apnee notturne e quindi mi domando se sono a rischio e soprattutto per il fatto che la mia compagna ha fatto una polmonite. Rispetto alla polmonite della compagna dipende un po' dai contatti che ha avuto la compagna e il medico o il sanitario potranno capirlo. Sulle apnee notturne è meglio tutelarsi. Bene, io ringrazio per essere stato così gentilmente a nostra disposizione il dottor Antonio Clavenna. Davvero grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Immediatamente la linea alla nostra informazione per gli ultimi approfondimenti. Grazie a voi. Grazie a voi.